Urge il cambio di rotta per il penne per agganciare i playoff, altra tegola per Adamo Pavone che perde dopo l'infausta trasferta di San Buceto anche Marco Donatangelo. In terra vestina arriva il Miglianico di Maurizio Tacchi, il primo tempo pressoché un monologo per cacciatore e compagni e delizioso il passaggio di Rosario Di Ruocco in apertura per Raffaele Pagano che punisce i giallo-blu ma atteggiamento difensivo miglianichese non esattamente irreprensibile. Pagano sistemato da Adamo Pavone nel centro del reparto avanzato con cacciatore alle spalle, proprio il numero 10. Raccoglie l'invito di Rosario Di Ruocco, conclusione volante e altro pericolo per Kevin Ferrara Di Ruocco, il migliore in campo. Nel corso della prima frazione di gioco si vede annullare una rete, quindi Pagano, conclusione smorzata in corner al tramonto di primo tempo ma penne che approccia nella ripresa sulla falsariga dei primi 45 di gioco e una scheggia impazzita di Ruocco che cestina il 2-0, copia in colla dell'azione precedente sempre di Ruocco, sfera alla sinistra di Kevin Ferrara. È solo esterno della rete per cacciatore ma è solo penne. Al comunale di Contrada Campetto la traversa che rischia la frattura sul siluro di Pagano, miglianico che resta in partita ma la conclusione tentata da Di Moia e lo specchio della prestazione degli uomini di Tacchi, il penne, torna a convincere e resta in corsa per il quinto posto. Mister Pavone è arrivata nuovamente la vittoria, una partita praticamente perfetta, forse è mancato solo il gol del raddoppio che poteva dare quella tranquillità. Sì, abbiamo fatto una grossa partita, abbiamo impattato bene la gara, siamo stati bravi, abbiamo creato diverse palle e gol. Peccato che mi hanno fatto soffrire i miei ragazzi fino alla fine, comunque gli faccio i complimenti, potremmo chiudere la partita prima. effettivamente loro di occasioni non le segna sul taccuino, quindi abbiamo fatto una grossa partita e poi con la mia soddisfazione è che comunque giochiamo con 5-6 fuori vuoto. Mister Tacchi eravate reduci da un buon periodo di forma, oggi però la squadra non è praticamente scesa in campo. Come non è scesa in campo? 11 loro, 11 noi, siamo scesi in campo, poi bisogna vedere dove iniziano i meriti nostri e dove ci sono i meriti degli avversari. Ovviamente però non c'è stata alcuna conclusione da parte dei suoi che non sono stati mai pericolosi davanti alla porta. Eh ma se questo si è visto, oggi abbiamo creato meno di quello che abbiamo sempre creato e niente, fa parte dello sport. Purtroppo capitano anche giornate negative, se fossimo stati bravi l'avremmo portata a casa con 1-0-0, loro sono stati bravi a fare il gol, non siamo stati bravi a recuperare e la partita è finita come è finita. Grazie! Grazie! Grazie!